Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video in cui dobbiamo parlare di Roma-Napoli finita 0-0 con una partita, una battaglia ragazzi, è stata una battaglia per 96-95 minuti, soffertissima il primo tempo dove il Napoli ha sofferto per 35 minuti, dove la Roma ci ha schiacciato poi negli ultimi 10 minuti siamo usciti bene, siamo riusciti a domare un po' la Roma poi nel secondo tempo Napoli che la prima parte di secondo tempo domina, prende un palo non si sa come con Osimè una traversa ancora con Osimè, quindi siamo stati anche abbastanza sfortunati e poi nel secondo tempo viene anche annullato un gol a Osimè per posizione irregolare che ci stava, comunque un punto all'Olimpico che ci mantiene primi in classifica abbiamo giocato una buona partita, abbiamo tenuto testa una Roma che veramente si è visto che giocava non solo per vincere ma dare risposte dopo la batosta contro i Bodoglint le ha date secondo me le risposte da Roma, ha giocato veramente tanto bene e complimenti sia al Napoli sia alla Roma perché comunque una battaglia fino alla fine le difese hanno avuto la meglio oggi perché Ebram ha avuto tanti lampi soprattutto quell'occasione del primo tempo davanti a Ospina che ha calciato largo Osimè aveva segnato, purtroppo c'è stato annullato ha preso un palo, ha preso una traversa quindi Napoli è anche abbastanza sfortunato sotto questo punto di vista Napoli che però mantiene saldamente l'imbattibilità sia in porta perché è un altro pin sheet dopo il Torino, il secondo di fila miglior difesa del campionato, tre gol presi in nove partite un punto che ci sta con la Roma, teniamo a distanza Inter e Juventus che giocano tra poco teniamo a distanza la Roma più 9 e teniamo a distanza, non teniamo a distanza ma raggiungiamo il Milan al primo posto e vorremmo già staccarli per la prossima partita che il Milan avrà al San Siro e il Torino noi in casa contro il Bologna, dovremmo cercare assolutamente di vincere per mantenere questa imbattibilità che comunque dimostra che il Napoli è una squadra forte che può ambire a grandi traguardi in questo campionato non dico più della Champions però diciamo che i risultati si stanno vedendo Roma-Mai-Doma, Zaniolo che non si fermava e Ebram stessa cosa è stato veramente una partita sofferta fino alla fine e alla fine siamo riusciti a portarci a casa un punto che alla fine un po' per quello che è successo alla fine sa un po' di amaro perché è un po' amaro perché aveva segnato Simen al novantesimo di testa ma fuori gioco netto ci ha tolto diciamo la vittoria contro la Roma sarebbe stata la prova, questa è stata la prova del nove e diciamo che il Napoli c'è, quest'anno c'è, può fare veramente tante grandi cose così come la Roma, Mourinho che non ha mai spesso di incitare anche l'ambiente olimpico è pazzesco va bene, buon punto contro la Roma e noi ci vediamo domani anzi, adesso con questo post partita e poi dopo con il post partita di Inter-Juventus altro grande appuntamento di questa domenica noi ci vediamo al prossimo video, ciao!